Negli ultimi giorni, le azioni di Alibaba sono crollate dell'11-12%, dopo la pubblicazione dei risultati dell'ultimo trimestre. Guardando la reazione del mercato, potremmo pensare che i dati siano stati disastrosi. Ma è veramente così? Lo scopriamo nell'episodio di oggi. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Chi possiede azioni Alibaba o segue questa azienda, ormai sa che non c'è mai un attimo di pace e sembra di stare sulle montagne rosse. Cos'è successo questa volta? L'azienda ha pubblicato una trimestrale positiva, ma il mercato ha guardato, come al solito, solo gli aspetti negativi. Ma analizziamo tutto in dettaglio. Secondo me, il crollo c'è stato principalmente per 5 motivi. Il primo motivo è stata la notizia che il fondatore Jack Ma in questi giorni venderà 10 milioni di azioni per un valore di circa 800 milioni di dollari. Allora, sicuramente non fa mai piacere sentire queste notizie. Però sono cose che capitano all'ordine del giorno. È capitato recentemente che anche Tim Cook vendesse azioni di Apple o Zuckerberg vendesse azioni di Meta. Ma non c'è mai stata tutta questa negatività intorno alle loro operazioni. Le azioni crollano solo quando si tratta di Alibaba. Il secondo motivo, invece, riguarda il segmento del cloud. Ed è stato annunciato che lo spin-off, annunciato in precedenza, per il momento non si farà. Il terzo motivo è legato ancora al cloud, ma riguarda questa volta il suo fatturato, che negli ultimi tre mesi è cresciuto solo del 2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche in questo caso, sicuramente, non è una notizia che ci fa molto piacere. Ma dobbiamo anche tenere presente che questo aumento c'è stato nonostante a fine aprile Alibaba abbia ridotto del 50% le tariffe su alcuni servizi del cloud per aumentare ulteriormente quote di mercato. Quindi il fatturato è sì diminuito, o meglio, è aumentato leggermente meno del previsto, ma può aver portato un numero maggiore di clienti, che in ottica futura è un aspetto sicuramente positivo. Inoltre, da questo trimestre, il fatturato del cloud non include più la parte relativa all'app Ding Talk. Per saperlo, però, bisogna leggere le note in piccola fondopagina, cosa che non tutti fanno. Il quarto motivo del crollo, invece, secondo me, è molto semplice. Alibaba è un'azienda cinese e quindi il mercato reagisce sempre male ogni volta che c'è una piccola notizia negativa. Infine, l'ultimo motivo è perché non avete ancora messo like a questo video. Quindi, se apprezzate il mio lavoro, vi chiederei gentilmente un like e un'iscrizione al canale. Sapete che mi fa sempre molto piacere. Ora, se questi motivi possono giustificare un crollo del 10-12% non sta a me a dirlo. Per Mr. Market evidentemente sì e quindi noi possiamo solo valutare se comprare azioni alle quotazioni attuali oppure no. Nella presentazione trimestrale c'è stata però una notizia che mi ha lasciato molto stupito. Alibaba ha annunciato il pagamento di un dividendo di un dollaro per azione che verrà pagato a inizio gennaio a tutti quegli investitori in possesso delle azioni alla data del 21 dicembre 2023. Dico che questa notizia mi ha lasciato stupito, poiché sembra una decisione presa un po' all'ultimo minuto per tamponare il malcontento del mercato. La dirigenza dice che questa mossa serve a restituire valore agli azionisti ma, come sappiamo tutti, questo poteva essere fatto anche solo aumentando i buyback, soprattutto alle quotazioni attuali. Secondo me c'è un altro motivo dietro a questa scelta ed è legato al fatto che molti fondi d'ETF, per questioni legati all'indice da replicare o politiche interne, non possono acquistare azioni di società che non pagano dividendi. Con questa mossa Alibaba invece può essere acquistata anche da tutti questi fondi e di conseguenza il prezzo delle azioni potrebbe salire. Allo stesso modo ci sono anche tanti investitori privati che puntano molto sui dividendi e quindi da oggi Alibaba diventa appetibile anche per loro. Da questo punto di vista, secondo me, la mossa ci può anche stare e potrebbe non essere del tutto sbagliata. Se ci pensiamo bene, ci sono anche moltissime aziende famose che pagano dividendi molto bassi, praticamente irrilevanti per l'investitore medio, che possiede una manciata di azioni, e queste aziende magari aumentano i dividendi anche anno dopo anno, secondo me quasi esclusivamente per motivi simili. E tra queste aziende abbiamo anche nomi molto illustri, come Apple, Microsoft, Visa, Mastercard e addirittura Nvidia, tutte aziende con un dividendo inferiore all'1% ma che permette loro di entrare in molti indici, fondi ed ETF. Ora però cerchiamo di capire se ci sono stati anche dei dati positivi in questa trimestrale. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, la trimestrale a mio avviso è stata davvero ottima, poiché i dati sono migliorati sotto tutti gli aspetti e di parecchio. Basti pensare che l'utile operativo è aumentato addirittura del 34% e il fatturato complessivo di un buon 9%. Nella conferenza stampa, dopo la trimestrale, la dirigenza ha sottolineato più volte come ci sia l'intenzione di restituire valore agli azionisti. Ovviamente non sappiamo se questo atteggiamento sia stato solo di facciata per calmare le acque oppure se le intenzioni siano serie. I numeri però sembrano confermare quanto detto. Ad esempio, in questo passaggio hanno confermato che l'azienda non è mai stata in una posizione finanziaria migliore di oggi. Alibaba infatti ha 63 miliardi di cash nelle casse e oltre 27 miliardi di free cash flow generato negli ultimi 12 mesi. Successivamente hanno ripetuto che la priorità ora è di continuare ad alimentare la crescita nei vari segmenti di business ma anche restituire valore agli azionisti tramite il dividendo appena annunciato, ma soprattutto il buyback che permetterà di aumentare sempre di più gli utili per azione. Con tutti questi soldi a disposizione in cassa e le quotazioni così basse sarebbe stupido non farlo. Infine è stata espressa la volontà di portare nuovamente a doppia cifra il ritorno sul capitale che negli ultimi due anni era sceso parecchio. Personalmente quello che mi ha colpito di più è stato comunque il free cash flow che ha aumentato tantissimo. Come valore totale degli ultimi 12 mesi siamo vicini ai massimi storici. In questo grafico infatti possiamo vedere come nel 2021 il free cash flow totale è stato leggermente più alto di quello attuale ma con una grossa differenza. Qui possiamo vedere il free cash flow in blu confrontato con la stock base compensation in rosso. Nel 2021 la stock base compensation era molto più alta rispetto ad ora. Adesso è quasi la metà. Se togliamo dal free cash flow la stock base compensation ci ritroviamo un grafico ben diverso per il free cash flow. Ed eccolo qui abbiamo infatti un free cash flow netto che adesso è il più alto di sempre. Oltre a questo dobbiamo tenere presente anche tutto il buyback eseguito negli ultimi due anni e che continua tuttora. Il risultato è che anche il free cash flow per azione ha raggiunto il valore più alto di sempre ed è di circa 9 dollari per azione. Se c'è un grafico che può indicare fedelmente il valore intrinseco di un'azienda secondo me è proprio il grafico del free cash flow per azione. Se questo grafico è in crescita significa che il valore intrinseco dell'azienda è in crescita e per Alibaba questo grafico ci indica che il valore intrinseco non è mai stato così alto. Alle quotazioni attuali dopo il crollo e quindi sotto gli 80 dollari ad azione significa che stiamo pagando ogni azione solo 8-9 volte il free cash flow. Ora calcoliamo invece il free cash flow yield. È sufficiente prendere il free cash flow degli ultimi 12 mesi cioè 28 miliardi di dollari. Togliamo la stock based compensation cioè circa 4 miliardi e dividiamo tutto per la capitalizzazione di mercato attuale cioè 197 miliardi. Il risultato è 0,12 e cioè 12% di free cash flow yield. Assurdo! Come sapete più è alto questo valore meglio è e di solito è difficile trovare aziende ottime con un free cash flow yield superiore al 4%. Figuriamoci al 12%. Chiaramente queste valutazioni così stracciate secondo il mio umile barere sono legate solo e soltanto a un unico fattore e cioè che Alibaba è un'azienda cinese. Quindi nel prezzo viene sempre scontato il rischio geopolitico che come ho sempre detto anche nel video precedente su Alibaba esiste. Ma quindi ho comprato altre azioni di Alibaba? Prima di dirvelo vi ricordo che potete supportare il mio lavoro qui sul canale anche con delle donazioni tramite il pulsante grazie che trovate qui sotto vicino al pulsante like e anche di condivisione. Non ho ancora abilitato gli abbonamenti al canale e quindi vi chiedo anche oggi di farmi sapere come potrei utilizzarli magari offrendo agli abbonati i miei file Excel per analizzare le azioni, la mia watchlist sempre aggiornata o anche dei video esclusivi o delle dirette solo per gli abbonati. Qualsiasi idea è super apprezzata ovviamente. Tornando ad Alibaba, come sapete a maggio avevo già incrementato la mia posizione. Da 10 azioni che avevo ne acquistai altre 15, abbassando nettamente il mio prezzo medio di carico. Fino a pochi giorni fa quindi mi ritrovavo con 25 azioni e un prezzo medio di carico di circa 96 dollari. Venerdì ho approfittato dell'ulteriore ribasso e ho quasi raddoppiato nuovamente la mia posizione acquistando altre 20 azioni. Ora ho 40 azioni e un prezzo medio di carico di circa 88 dollari. Così facendo, ho sicuramente aumentato il rischio specifico del mio portafoglio aumentando la mia esposizione alla singola azienda all'interno. Ora infatti Alibaba è la mia seconda posizione più grande in azioni singole dopo Meta e occupa poco più del 3,5% del mio portafoglio. Ma dobbiamo tenere presente che abbassando il prezzo medio di carico ho anche ridotto il rischio specifico poiché ho aumentato il mio margine di sicurezza. Infatti, quando possediamo azioni, più è basso il nostro prezzo medio di carico, minore è il rischio e maggiori sono le possibilità di ottenere guadagni. È proprio un fatto matematico. Capire questo secondo me è molto importante e psicologicamente ci può aiutare quando dobbiamo mediare il ribasso. Se crediamo in un'azienda e il prezzo cala, sarebbe stupido non approfittarne. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come avete reagito voi alla trimestrale di Alibaba e se l'avete in portafoglio. Spero come sempre che questo episodio vi sia piaciuto. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!